Ciao a tutti e benvenuti su Senza Fissa di Mora. Oggi andiamo a trattare un problema che affligge un po' tutti quelli che scelgono la Francia e magari siete fortunati e riuscite ad avere la prima entretien de travail con l'occhio di lavoro. Il vostro futuro capo vi sembra una persona normale, ricerca un profilo come il vostro, tutto va a gonfie vele, il vostro curriculum è ben fatto e si arriva alla fatidica domanda. Un conto corrente francese? Allora a quel punto si corre in banca e lì vi piombano sulle spalle una miriade di problemi, problematiche, burocrazia, domande di cui in molti casi, almeno all'inizio, non si conosce la risposta. La banca vi chiederà un bollettino di salario, una busta paga, che chiaramente non avete perché dovete cominciare a lavorare. Quindi se il vostro capo vi chiede un conto corrente per versarvi la prima busta paga, la banca vi chiede una busta paga, qualcosa non va. Allora si passa al mitico giustificativo di domicil, qui i chili da portare sulle spalle diventano tantissimi. E così vi ritrovate a ritornare in banca più volte per fare domande e avere risposte che non vorreste mai sentirvi dire. In più ci sono da tenere in conto i costi enormi di un conto corrente bancario in Francia. Infatti è solo da poco tempo che c'è un pochettino più di concorrenza tra le banche, ma comunque se vi rivolgete a un classico istituto i costi sono enormi. Per ogni operazione rischiate di avere dei costi fissi senza escludere il fatto che un errore da vostra parte, uno scoperto, una richiesta allo sportello oltrepassando il vostro limite può costarvi molto caro. Et voilà la soluzione. Premetto che io non prendo un euro, non è una pubblicità a questa tipologia di conto, è solo un consiglio che do per oltrepassare la problematica di avere un conto corrente che vi viene chiesto forzatamente per lavorare in Francia. La soluzione è un conto corrente online francese. Perché dico francese? Perché un conto corrente online non francese non varrà per moltissime delle cose che vi vengono richieste, tra cui versarvi una busta paga o versarvi degli aiuti, come possono essere rimborsamenti di una carta, della carta maladie, rimborsamenti dell'assicurazione sanitaria o aiuti mensili per i vostri figli. Qualsiasi aiuto dello Stato viene versato solo ed esclusivamente su un conto corrente francese. Il nome di questo conto corrente che io consiglio si chiama Nickel. Lascerò in descrizione del video un link che vi riporta la pagina. Ripeto, io non guadagno niente, non pensate che io riprenda su di voi, non c'è un codice da mia parte, non c'è niente di tutto ciò. Perché non mi interessa? Mi interessa solamente darvi una soluzione pratica, soprattutto se arrivate da poco tempo. Andate in un site tabacchi con il vostro passaporto, uno scanner del passaporto fatto lì nel site tabacchi, proprio nell'apparecchio dove si può fare il conto corrente Nickel. E voilà, e avrete un conto corrente bancario con il famoso FR all'inizio del vostro IBAN. Ha un costo, praticamente, ha un costo molto basso. Ultimo consiglio, se ne aprite più di uno, partite uno alla volta se siete amici o dalla stessa famiglia. Potete usufruire di un codice, credo, di un codice bonus per il secondo. Cioè, uno di voi lo apre e l'altro amico o parente che apre con il codice del primo, credo possa avere un rimborso, un piccolo rimborso in euro. Spero che vi sia di aiuto e che abbia almeno risolto una piccola parte dei problemi che si hanno quando si emigra in questo enorme paese. Grazie e al prossimo video.